ma non c'è credito dai ma che cazzo sto a leggere dai allora che voglio farire Roberto Mancini io ti adoro ti adoro ci sei mancato tanto nel calcio italiano meno male che sei tornato guarda perché ste dichiarazioni così cioè soltanto tu ci puoi regalare ste perle di saggezza allora sentite che ha detto questo dove sta ah ha detto parlando dell'Inter giustamente subiamo perché giochiamo a calcio giochiamo a calcio oddio oddio giochiamo a calcio cioè accostare accostare Mancini al gioco del calcio guarda è veramente una delle cose più pretestuose che esiste vabbè dai complimenti a Mancini se sei incomico potresti annazielig grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti